Nelle misteriose dinamiche dell'universo, alcuni individui vengono toccati da una forza straordinaria, rivelando di essere grandemente unti dallo stesso universo. Questa sacra unzione non è semplicemente un dono, ma un profondo allineamento con le energie universali che segnala uno scopo e una chiamata superiore. Questi segni sottili ma potenti potrebbero indicare che sei uno dei pochi eletti, profondamente connesso con il Divino. Esplorando questi indicatori unici potresti scoprire un aspetto del tuo percorso spirituale che non avevi ancora pienamente riconosciuto. Ti ricordo l'importanza di lasciarci un tuo commento riflessivo alla fine, perché, rammenta, ogni video è, sempre e in modo sostanziale, una risposta. Immergiamoci nei segni affascinanti che rivelano questa profonda unzione e vediamo se ti rispecchi in questi messaggi divini. Uno dei segni più significativi di essere grandemente unti dall'universo è un travolgente senso di pace. Questa pace non è semplicemente l'assenza di conflitto, ma una profonda tranquillità interiore che persiste anche nei momenti difficili. Questa tranquillità interiore è profondamente radicata nell'assicurazione di essere guidati e protetti da una forza superiore. È come se una mano invisibile fosse sempre lì a sorreggerti. Una presenza divina che sussurra parole di conforto e saggezza nei momenti di dubbio e paura. Questa pace supera ogni comprensione, poiché non dipende dalle circostanze esterne. Che tu stia affrontando prove personali, sfide professionali o incertezze globali, questa pace rimane salda e incrollabile. Questa calma interiore consente all'individuo di affrontare le tempeste della vita con grazia e resilienza. Quando altri potrebbero essere travolti dalla paura, dalla rabbia o dalla disperazione, coloro che sono unti dall'universo riescono a rimanere saldi, radicati nella loro pace interiore. Questa resilienza non è una forma di negazione o repressione delle emozioni, ma piuttosto un'abilità di riconoscerle e processarle senza esserne sopraffatti. Potresti provare tristezza, rabbia o paura, ma queste emozioni non ti definiscono né ti controllano. Invece le vivi, impari da esse e poi le lasci andare, tornando al tuo stato naturale di pace. Sapere di essere sostenuti dall'universo infonde un profondo senso di sicurezza. Un altro segno di essere grandemente unti dall'universo è un'intuizione accresciuta. Questa intuizione affinata si manifesta spesso come una voce interiore chiara e precisa che sembra parlare direttamente dalle profondità dell'anima. Per coloro che sono unti, questa guida intuitiva è una compagna costante, che offre intuizioni e saggezze che vanno oltre il ragionamento ordinario o la logica. È come se vi fosse una linea diretta di comunicazione tra la loro mente conscia e la fonte divina di tutta la conoscenza. Questa intuizione accresciuta diventa uno strumento potente per prendere decisioni in linea con il proprio scopo superiore. Di fronte a scelte significative, sia che riguardino cambiamenti importanti nella vita o decisioni quotidiane, coloro che sono unti trovano spesso che la loro intuizione fornisca un forte senso di direzione. Questa conoscenza interiore non si basa su evidenze esterne o saggezza convenzionale, ma su una comprensione più profonda di ciò che è veramente meglio per il loro viaggio spirituale. Sembra come una bussola interna che punta costantemente nella direzione giusta, anche quando il cammino avanti è poco chiaro o incerto. Inoltre, una persona grandemente unta sperimenta spesso sincronicità ed eventi serendipici con notevole frequenza. Questi eventi non sono semplici coincidenze, ma vengono visti come il modo dell'universo di confermare il loro cammino. Servono come indicatori sottili ma potenti che si è allineati con il proprio scopo superiore e forniscono rassicurazione che l'individuo si trova sulla giusta strada. Le sincronicità possono manifestarsi in una moltitudine di modi, spesso quando meno te lo aspetti. Una riconnessione inaspettata potrebbe portare a una conversazione necessaria o a un'opportunità significativa per le circostanze attuali della tua vita. Questi eventi apparentemente casuali sono in realtà orchestrati dall'universo per guidarti e sostenerti. Ad esempio, la sincronicità potrebbe verificarsi quando stai riflettendo su un problema o una domanda particolare e improvvisamente ti imbatti in un libro, un articolo o persino una conversazione casuale che fornisce esattamente la risposta o l'intuizione di cui avevi bisogno. Questo tipo di scoperta serendipica è un chiaro segno che l'universo sta rispondendo alle tue domande interiori, aiutandoti a trovare la chiarezza e la direzione che cerchi. Inoltre, queste sincronicità spesso coinvolgono l'incontro con le persone giuste al momento giusto. Potresti trovarti presentato a qualcuno che ha i consigli, le risorse o le connessioni perfette per aiutarti a raggiungere un obiettivo o superare un ostacolo. Questi incontri non sono casuali, sono il modo dell'universo di posizionarti sul cammino di coloro che possono assisterti nel tuo viaggio. Un intenso senso di scopo è un altro segno distintivo dell'essere grandemente unti dall'universo. Tali individui sono mossi da una missione o una chiamata impellente che va ben oltre il guadagno personale o il successo superficiale. Questo profondo senso di scopo emerge spesso come una consapevolezza interiore che la propria vita ha un ruolo significativo da svolgere nel grande schema delle cose. È come se fossero consapevoli di un destino superiore che sono chiamati a realizzare, un destino che implica creare un impatto positivo sul mondo e servire gli altri in modi significativi. Questo intenso senso di scopo spesso si manifesta precocemente nella vita, ma può anche emergere più tardi, in seguito a un periodo di introspezione o a un'esperienza trasformativa. Coloro che sono unti possono sentire un'irresistibile spinta a seguire un determinato cammino o a intraprendere attività che risuonano profondamente con la loro anima. Questa chiamata non è sempre chiaramente definita. Può evolversi e diventare più chiara col tempo man mano che acquisiscono maggiori intuizioni ed esperienze. Ad ogni modo, il desiderio sottostante di contribuire al bene comune rimane una forza costante che guida le loro azioni. Servire gli altri è al centro di questo senso di scopo. Che si tratti di una professione, di un'impresa creativa o di atti di gentilezza, gli individui grandemente unti trovano un'immensa realizzazione nell'aiutare gli altri. Possono essere attratti da carriere nell'insegnamento, nella guarigione, nel counseling o nell'attivismo sociale, dove possono influenzare direttamente la vita delle persone. Anche in ruoli meno evidenti infondono il loro lavoro con uno spirito di servizio, cercando sempre modi per elevare e sostenere coloro che li circondano. Questo impulso altruistico non è motivato dal desiderio di riconoscimenti o ricompense, ma deriva da una compassione genuina e da una profonda comprensione dell'interconnessione di tutti gli esseri. Questo senso di scopo fornisce una profonda realizzazione che non ha paragoni con il successo materiale o i traguardi esteriori. Mentre altri possono inseguire ricchezza, status o approvazione, coloro che sono unti trovano la loro gioia più grande nel sapere che stanno facendo la differenza. Questa realizzazione è profonda e duratura e offre una fonte di gioia interiore e contentezza che persiste anche di fronte alle sfide. È una realizzazione che deriva dal vivere in modo autentico e dall'allineare le proprie azioni con i veri valori e le convinzioni personali. Inoltre, una persona grandemente unta manifesta spesso una compassione e un'empatia profonde. Queste qualità sono più di semplici emozioni o tratti. Sono una parte fondamentale del loro essere, profondamente radicate nella loro anima. Questa profonda compassione permette loro di connettersi con gli altri a un livello intimo, comprendendo e condividendo le loro gioie e dolori, i loro trionfi e le loro lotte. hanno un'abilità innata di percepire le emozioni di chi li circonda, spesso senza bisogno di parole, e di rispondere in modi che forniscono conforto e supporto autentici. Questa capacità di comprendere e condividere i sentimenti degli altri non è semplicemente una competenza acquisita, ma un'estensione naturale della loro unzione spirituale. Quando qualcuno è grandemente unto dall'universo, è dotato di una sensibilità accresciuta alle energie e alle emozioni altrui. Questa sensibilità permette loro di sentire ciò che gli altri stanno provando, quasi come se stessero vivendo quelle emozioni in prima persona. Questa empatia profonda consente loro di offrire il tipo di supporto di cui c'è veramente bisogno, fornendo sollievo e comprensione senza giudizio o condiscendenza. Inoltre, questa compassione espansiva spesso conduce a una vita di servizio. Coloro che sono grandemente unti sentono una chiamata ad alleviare la sofferenza ovunque la incontrino, sia nella loro comunità locale che su scala globale. Possono offrire il loro tempo come volontari, donare risorse o sostenere la giustizia sociale, cercando sempre di rendere il mondo un luogo più gentile ed equo. Questo impegno al servizio non è motivato dal desiderio di riconoscimenti o premi, ma dal sincero desiderio di contribuire al bene comune. C'è anche un evidente senso di protezione che accompagna coloro che sono grandemente unti dall'universo. Spesso evitano incidenti, disavventure o esperienze negative che sembrano colpire gli altri. Questa protezione è percepita come il modo in cui l'universo salvaguarda la loro missione e il loro benessere, permettendo loro di realizzare il loro scopo con interferenze minime. Gli individui grandemente unti spesso si trovano a sfuggire per un soffio a situazioni pericolose. Ad esempio, potrebbero perdere un volo solo per scoprire successivamente che l'aereo ha incontrato gravi problemi. Questi eventi non sono semplici coincidenze, ma segni della mano protettiva dell'universo in azione. Infine, un senso di unità con l'universo diventa la loro realtà. Non vedono più se stessi come separati dal mondo che li circonda, ma come una parte integrante di una vasta rete interconnessa di vita. Questa realizzazione porta a un profondo senso di appartenenza e pace, sapendo di essere una parte amata e significativa del tutto più grande. Questo senso di unità trasforma la loro prospettiva sulla vita. Iniziano a percepire l'interconnessione di tutte le cose, comprendendo che ogni azione, pensiero ed emozione contribuisce alla coscienza collettiva. Questa consapevolezza favorisce un profondo senso di empatia e compassione, poiché riconoscono che le esperienze degli altri sono intrinsecamente legate alle proprie. Le gioie, i dolori e le sfide affrontate dagli altri vengono sentiti come propri, spingendoli ad agire con maggiore gentilezza e considerazione. Vivere con scopo, compassione e pace, sapendo di essere una parte amata del tutto più grande, è il segno più profondo di essere grandemente unti dall'universo. Questa consapevolezza non solo arricchisce la loro esperienza di vita, ma li ispira a vivere con autenticità e con un profondo senso di responsabilità verso il mondo e gli altri. Ogni gesto, ogni pensiero e ogni scelta diventano un atto consapevole che contribuisce all'armonia universale. Le loro azioni non sono guidate da un desiderio di guadagno personale, ma da un impegno sincero per il bene collettivo. Questa visione espansiva della vita porta una gioia interiore che è duratura e inalterabile, anche di fronte alle avversità. Coloro che sono grandemente unti dall'universo comprendono che il loro cammino è parte di un progetto più ampio e questa comprensione infonde ogni aspetto della loro esistenza con significato e scopo. Spero che l'argomento abbia raggiunto il suo intento e che tu l'abbia apprezzato. Lascia pertanto un like di apprezzamento ed iscriviti al canale per non perdere i nostri prossimi contenuti di valore. Lascia inoltre anche un commento che reciti. Sono profondamente connesso con l'universo, vivo con scopo, con passione e pace, sapendo di essere una parte amata del tutto più grande. Lo apprezzerò. Come sempre, ti auguro una giornata meravigliosa. Una giornata in cui sia possibile strappare la bellezza ovunque essa sia, per regalarla a chi ti sta accanto. A presto, con risveglio spirituale.